E' stato predisposto un cronoprogramma per i cambi di domicilio dei residenti in via Senatore Giuseppe Alessi, ex via Due Fontane. Nella nota si legge che i residenti saranno invitati, con una lettera, a recarsi in giorni e orari prestabiliti presso lo sportello per effettuare i cambi d'abitazione senza nessun onere per i cittadini. Le lettere partiranno nelle prossime settimane. Ciò consentirà di aggiornare le schede anagrafiche. Per chi risiede nel tratto di strada ricadente sulla strada provinciale 29, la denominazione potrà essere definita come Contrada Due Fontane o Contrada Baba Urra. Dispiace arrecare qualche piccolo disagio, ha affermato il sindaco Ruvolo. Riteniamo però che aver intitolato la strada ad una personalità come Giuseppe Alessi, che rappresenta la storia del nostro territorio, sia un motivo di orgoglio per tutti.